Calano i contagi ma i numeri si mantengono alti rispetto all'inizio della pandemia. Martedì 80 nuovi casi di coronavirus, ieri soltanto si fa per dire 29. Sei contagi in tutta Italia sono in risalita, nell'isola si registra per fortuna una frenata. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, nell'isola risultano attualmente positive 43 persone ricoverate con sintomi, un paziente in meno rispetto a ieri, 6 in terapia intensiva, 513 in isolamento domiciliare. In totale gli attori positivi sono 562, i decessi sono fermi a 284, sul fronte dei tamponi sono 2.248 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore. E dopo i casi di aggrigente stata Elisabetta c'è un nuovo positivo al coronavirus in provincia. Si tratta di un giovane di Porto Empedocle che era stato in vacanza a Malta assieme ad altri, forse 5, coetanei. Si tratta del terzo contagio nel giro di 24 ore circa. I ragazzi sono tornati domenica e subito si sono messi in quarantena assieme alle loro famiglie, ha spiegato il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina. Il giovane è per fortuna sintomatico. Andiamo verso le sere di Ferragosto in cui molti giovani usciranno e avranno incontri. Mi raccomando, ha detto il sindaco, massima prudenza, usate la mascherina. Chi volesse fare eventi deve comunicarlo al comune o alla prefettura. 48 ore prima si deve tenere la mascherina. I locali non devono avere una capienza superiore al 40% della disponibilità dei posti. Siate molto rigidi. Ricordate che siamo stati chiusi in casa come topi per oltre due mesi e che tanti si sono rovinati economicamente per garantire la salute di tutti. Il pericolo di un ritorno è dietro l'angolo. Già si intravede una situazione negativa. Abbiamo tanti bei posti in Sicilia e in Italia. Per forza in questo momento dobbiamo andare all'estero. Stiamo a casa, ha continuato Ida Carmina. Cerchiamo tutti di collaborare affinché si possa rimanere in comunità sane. Divertiamoci ma facciamolo con prudenza. Rispettiamo le regole poste a salvaguardia. Il sindaco ha evidenziato anche un aspetto importante. Temiamo tutti gli extracomunitari. Temiamo che possano portare i virus. e poi invece andiamo nelle zone dove il virus c'è. Questo va assolutamente evitato. Cerchiamo di essere i primi noi prima di prendercela con gli altri e garantire la nostra salute.